ragazzi si arriviamo mamma voglio stare vicino a papà sempre così basta guardiamo e tu crediamo fosse dei ragazzi delegati e disciplinati ma mi sbagliamo se c'è qualche sciocco in questa classe siamo su piedi allora nessuno beh e tu perché ti sei alzato? perché mi dispiaceva avere l'aiuto solo non posso essere ciao nonna ciao ma mamma non c'è? è andata al lavoro ti ha lasciato qualcosa da mangiare nel fornette ora ci penso io a riscaldarlo grazie nonna sai io ho due notizie da darti una buona e una cattiva quella buona? quella buona è che ho preso 10 matematica brava lo sapevo che studiato tu avresti raggiunto ottimi risultati quella cattiva? e quella cattiva è che non è vera via ora aspetta ora aspetta fanno nei riti e ce l'hanno così via un attimo di passa così vi riprendete perché mi dispiaceva vederlo lì da solo alzato verso adesso non c'è ma anche se l'ho fatto via la di Bombardie dai genti dove ci sta sa te l'idea e la della assolutamente ma non c'è guarda la fasten non l'ho copydato perché c'è ecco e basta sonora stiamo approcciando Grazie a tutti. Grazie a tutti.